Matrimonio a Porto Cervo in Sardegna per la bellissima Melissa Satta, donna conturbante e famoso personaggio televisivo italiano e il bravo e in gamma non che si fa di boccheri un personaggio di spicco del calcio. Un matrimonio bello in Sardegna dunque, un matrimonio fantastico e favoloso in una delle località più rinomate probabilmente della Sardegna, una delle località probabilmente più gettonare per passare e trascorrere quindi le vacanze e sfide. Ma c'è da segnalare però un piccolo particolare, infatti intorno alle 6 di un mattino circa tre auto sarebbero rimaste coinvolte in un incidente stradale nei pressi proprio di Waterloo a Porto Cervo, nello scontro sarebbero rimaste addirittura ferite alcuni invitati al matrimonio di Prova Satta e Kevin Boateng. Tra le persone a bordo delle auto vi era anche la subreddita Miriam Mancini che avrebbe riportato la frattuosa del corso, sembra certo però che ci sarebbero state altre persone ferite, alcune abbastanza gravi ma non se ne conosce da irta. Se il posto sarebbe intervenuta immediatamente la polizia stradale, un matrimonio dunque da sogno che per alcuni dei vene indicati si sarebbe però concluso con un epilogo molto triste e molto brutto. Grazie per l'ascolto e per la visione. Io termino qua. Grazie per la visione.